Ciao a tutti ragazzi, sono DoggyJ e oggi siamo in un nuovo video Siamo nel prequel della top 3 che vorrei vedere in Smash Bros Cioè il sesto, il quinto e il quarto posto Poi c'è il terzo, il secondo e il primo che ho già fatto vedere in uno scorso video Ok ragazzi, il quinto posto è occupato... No, il sesto posto è occupato da Freddy di Five Nights at Freddy's Uno, due, tre, quattro Lo so, questo qua non è palesemente impossibile che lo mettono Anche se il prima posizione è in quello dei voti L'ho messo perché mi piaceva l'idea di metterlo, ma sicuramente non lo metteranno Ecco perché sta alla quinta posizione, cioè alla sesta Adesso alla quinta posizione troviamo Troviamo Spyro the Dragon Questo qui è di una vecchia serie che non è... non so se è Nintendo o meno Però mi piaceva l'idea di avere Spyro the Dragon in Smash Bros Potrebbero anche metterlo, però non sarebbe una cosa molto... Ah no, è giusto, è dell'Activision Però c'è anche giochi tipo Skylander sulla Wii C'è anche Spyro tra gli Skylander E quindi potrebbero metterlo, anche se non è molto possibile che lo mettono Però a me piace l'idea di averlo Ok ragazzi, e invece alla quarta posizione troviamo Troviamo Toad Alla quarta posizione troviamo Toad Io vorrei Toad perché praticamente hanno fatto Mario, Wario, Luigi E... infatti vorrei anche Waluigi Al terzo posto è Waluigi Nella top 3 ve l'ho fatto vedere E poi Toad che mi piace Cioè hanno inserito Mario, Luigi e Toad è anche uno degli eroi Ok ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto E alla prossima